Dallo stadio olimpico di Torino, Juve Genoa, buonasera da Fabio Caressa, Massimo Mauro. La Juventus viene da sei vittorie consecutive, il Genoa è una delle grandi rivelazioni di questo campionato. Il ritardo si soppone, si complica per la verità un po' la vita Gasbarroni, alla fine c'è rimessa laterale, Gasbarroni si è molto complicato la vita, qui è una grande giocata con Griegera! Grazie! Griegera! Evidentemente è proprio il Genoa la squadra con la quale vuole segnare di più. Tiago Motta, cerca l'apertura Tiago Motta per Milito, prova ad andare via, Milito in area di rigore, grande controllo, Milito ancora! E palla fuori veramente di nulla, che giocata del principe! Chiellini, il tocco di Marchionni per Amalui, prova a girarsi, Amalui ancora uno contro uno, Amalui allarga il pallone per Griegera, arriva a traversione, Amalui! Amalui! Ma dove è arrivato con quella testa? E' un'altra parte che è andata a largo! Alto, tre persone deviato, Manninger, palo! La palla resta a Lini, Milito non è riuscito a deviarla, poi Chiellini sta vincendo 2-0 la Juventus, ma è una partita bellissima! Marchionni di prima, Del Piero si gira giusto, Del Piero palla sul sinistro, Del Piero ancora cerca un barco, grande palla per Molinano! E salvataggio sulla linea di Crescito! Gli ha quinta da solo, gli ha quinta, gli ha quinta! Vincenzo! Gli ha quinta! 3-0! Arriva a traversione di Rossi, Sissoko la manca! Poi c'è calcio di rigore, fallo di mano di Legrottaglia alle spalle di Sissoko, che si arrabbia con se stesse, calcio di rigore per il Geno! Diego Milito! 3-1, 10 gol in campionato capocannoniero! Si fa vedere Camoranese a destra, lo serve Giovinco! Arriva il cross, basso, autogol, 4-1! Clamorosa la autogol di Papastatopoulos! Finisce 4-1 per la Juve! Oggi contro il Genoa in questo pre-anticipo della dodicesima giornata!